13 i decessi odierni in regione, 10 donne, 8 uomini, le vittime del coronavirus, tutti con patologie pregresse. Il più giovane aveva 46 anni di Pesaro, mentre il più anziano aveva 98 anni di San Severino Marche. Il totale sale a quota 764 dall'inizio della pandemia, 7 extra regione. Il bollettino di aggiornamento ha confermato anche 5 decessi avvenuti nei giorni precedenti, per i quali è stata confermata la diagnosi. Scendono sotto quota 1.994 il numero delle persone ricoverate per coronavirus nelle Marche, mentre i guariti salgono di 57 unità a 1.660, in precedenza 1.603. Lo evidenziano i dati del gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie per le ultime 24 ore. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 106, ma scendono i leggenti in semi-intensiva da 244 a 234, e in reparti non intensivi da 471 a 434. In area post-critica si trovano 220 persone, 222 il giorno precedente. Contestualmente crescono i positivi in isolamento domiciliare, da 5.426 a 5.503. Quelli in quarantena per aver avuto contatti con contagiati sono 7.887, 3.426 con sintomi, tra i quali 1.190 operatori sanitari. Sono ora 5.503 positivi al Covid-19. Il numero più alto di contagi in provincia di Pesaro Urbino è 2.230, seguita da Ancona 1.647, Macerata 846, Fermo 367, Ascoli Piceno 259, 154 positivi provengono da altre regioni.